Matite spezzate, Paris 7 gennaio 2015, Kalashnikov mortale, corpi trucidati, terrore agghiacciante, urla e grida cupe nel tetro di infuga dalla Lumière d'Hille. La rinata luce mattutina regala un rap frenetico, di risonanza lugubre, e la morte rapace gremisce lupi e agnelli. A Charlie Hebdo restano lunghe matite coperte da sangue scarlato, yesterday intere, today spezzate, tomorrow ritemperate. Torneremo noi a ridere pensando a Sharp, Cabu, Tignos e Wolinsky muti per l'eternità. A voi lettori ignoti, l'ardua risposta. Poesia di Giovanna da Donne Bormida, di Cengio, in provincia di Savona. Scrivo versi per chi ama Sui muri, sui calzoni, sulle carte, sulle mani Sul parche, sui manifesti Scriverò